Buongiorno a tutti, oggi è il lunedì della sedicesima settimana, ci accompagna il Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 12, versetti dal 38 al 42. In quel tempo alcuni scrivi e farisei dissero a Gesù, Maestro, da te vogliamo vedere un segno? Ed egli rispose loro, Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, Così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, Perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, Perché ella venne dagli estremi confini della terra, per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Vogliamo vedere un segno. Quante volte abbiamo chiesto questa cosa al Signore per poter credere? Se non mi fai vedere quello che voglio, Signore, non credo che Tu sei quello che dici di essere. Questa è la questione in ballo in questo Vangelo. Ebbene, Gesù invece rovescia la cosa. Il segno, quello più grande, quello che attesta che Gesù è il Signore sul cielo e sulla terra, Sulla vita e sulla morte, è la sua resurrezione. Il segno di Giona che rimane tre giorni e tre notti nel ventre del pesce. Ebbene, per accedere a questo segno, per vederlo, per riconoscere Gesù come il risorto e il vivente, Abbiamo bisogno di un'altra cosa. Non è il segno a farci credere, ma è la fede a farci vedere il segno. Difatti, è la predicazione di Giona a convertire gli abitanti di Ninive, È la predicazione della Chiesa a parlarci della resurrezione. Prima credo, prima accolgo la parola e la predicazione, poi accedo al risorto. C'è una priorità in questo, perché da questo passa la fede. C'è una testimonianza, anche di vita vissuta, non solo di parole, Una parola incarnata che mostra la resurrezione del Signore Gesù. È la vita delle persone che l'hanno incontrato. Sono coloro che di questa resurrezione adesso vivono. E allora su questa parola io posso interrogarmi, ma che è successo a questa persona? Questo diventa il vero segno. E da lì dire, bene, c'è dell'altro? Cosa mi dice? Il Signore Gesù è vivo, mi ha toccato la vita, mi ha salvato. E allora attraverso questo accedo anche alla gloria della resurrezione, al mistero del segno del risorto, che è vivo e presente in mezzo al mondo e regge la storia. E allora questo rovescia tante nostre aspettative. Ci mette nella condizione di cercare il Signore e di lasciarci trovare da Lui, piuttosto che pretendere qualcosa che vogliamo noi sulla nostra vita, un segno che ci convinca, perché non si tratta di essere convinti, ma di accogliere una presenza, quella del risorto, dentro la nostra vita. Grazie a tutti.